L'indirizzo grafico pubblicitario del Polo Bianciardi di Grosseto quest'anno ha sviluppato sette progetti di alternanza scuola-lavoro, realizzando commesse grafiche, audiovisive e multimediali. Fuoriclasse, una trasmissione televisiva in 16 puntate, andate in onda su TV9 da ottobre a maggio, ogni venerdì alle 19.15. Ogni puntata è stata composta da rubriche, interviste, servizi giornalistici realizzati interamente dagli studenti. Campagna di affissione Fight Gym I ragazzi hanno realizzato i manifesti e le locandine per il campionato italiano Ghiut di Pugilato, che si è svolto a Grosseto il 25, il 26 e il 27 novembre 2011. La commessa è stata affiancata anche da servizi fotografici e riprese video di promozione della manifestazione. Campagna stampa Superabile Inail Il progetto prodotto è stato realizzato per il Premio San Bernardino di Massa Marittima, edizione 2011, sul tema del superamento delle disabilità attraverso lo sport. La commessa ha visto la realizzazione di una campagna stampa per Superabile Inail e una campagna radiofonica per FastWeb. Vade Mecum del Turista Il progetto ha visto la realizzazione della guida per il turista ospite dell'hotel Aironi di Grosseto, contenente informazioni utili per visitare la città, itinerari percolibili a piedi ed una mappa urbana di supporto. Weekendone La commessa è consistita nella progettazione e la realizzazione di pannelli per l'allestimento di una mostra itinerante, promossa dall'ASL 9 di Grosseto, sul divertimento senza eccessi. Concorso Rosmini Il progetto ha visto la realizzazione del marchio e del logo, infiniti alfabeti, per la quindicesima edizione della rassegna provinciale Il Teatro della Scuola, premio a città di Grosseto. Progetto 5F La commessa prevedeva la realizzazione del coordinato grafico di un'azienda di abbigliamento di Mosca, prossima all'apertura di un punto vendita a Castiglioni della Pescaia.